Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Paper Please signori Allora qui c'è un attimo la schermata di tutti i fail che abbiamo fatto praticamente durante questa avventura Comunque siamo arrivati al giorno 16 quindi non perdiamo tempo e andiamo avanti a giocare assieme Continua, yes! Allora, ministri in lotta per il personale, penure di soldati e guardie esperte, consolidamente trasferendo il confine Va bene, continuo, vediamo cosa succede in questa nuova giornata alla frontiera con Gloria Stosca 8 dicembre 1982 Ministro dell'accoglienza, va bene, la chiave in dotazione di accesso a un fuscile a tranquillante allo scattare dell'allarme L'ispettore dovrà contrastare direttamente eventuali violazioni del confine Porca miseria, ok, quindi dobbiamo sparare raga, ottimo Verrà assegnato un bonus per ogni violazione del confine impedita E un minore per i colpi andati a vuoto Ok, consulta del diagramma di istruzione della pagina seguente, ok Quando suona l'allarme Lascia la chiave sul lucchetto per svolcare l'arma Seleziona l'arma, puntare e sparare Il tempo è prezioso, agire rapidamente Ok raga Ah, questi sono al solito le persone che dobbiamo fare arrestare Perfetto, allora Organizzazione e non perdiamo tempo Allora, i tizi da arrestare li mettiamo qua Belli, carini e coccolosi Il nostro libriccino lo mettiamo qua La chiavetta ce l'abbiamo qua Va bene, non so dove vado infilata la chiavetta Però Documenti lasciano qui Non so dove vado infilata la chiavetta Ma da qualche parte, sicuramente Ce la faranno infilare Detto così non è bellissimo Va bene Allora, siamo pronti signori Nuovo giorno Gloria Stosca Gloria Stosca Ah, subito la guardia, così Ok Hai restato 6 persone Ecco Oh Bonus per vendita di party bomba Spostata dalla nostra stazione di prigione Prendiamo ancora bonus Perciò tu arresta Non vengo più, visita qui Lascia soldi a casa tua Notte sì e notte no Belli 5 E 10 Hanno fatto i sordi raga Hanno fatto i sordi Bella così Avanti Prossimo, prossimo Una prima volta che la giornata lavorativa è lunga Dagli così, dagli così Buongiorno Scopo del viaggio Visito amici Durata del soggiorno? Resto poche settimane E ma mancano documenti Allora 3,12,82 Va bene Slanginton Questo viene da Federazione Unite Mappa le regioni Le regioni unite C'è Questa città Sherrington Sì c'è Il documento è valido Il tizio sembra lui Va bene Controlliamo questo 1,91 Accettabile per 89 kg Va bene Barba 20,12,82 Allora questo è buono Però signori miei Norme di base Manca Manca Carte di entità stranieri Solo con permesso d'entrata Infatti Dov'è il permesso d'entrata? Zio Dov'è il permesso d'entrata? Non hai permesso d'entrata? Ecco Perché non me l'hai dato prima? Visita Quando stava questo? Poche settimane Visita un mese Allora Ti chiami Eric E Martin Ok LK00V TJ Sat Ok 23,12 Un mese Visita Allora c'è un problema di nomi Zio Nessuna correlazione Come nessuna correlazione Zio C'è un problema di nomi Lo vedi che c'è un problema di nomi? Lo vedi che c'è un problema di nomi Zio? Questo ha un nome Questo ha un altro nome Ah no Ora l'ho rilevato in congruenza Questi nomi non coincidono Ho cambiato il nome di recente E dai Con le impronte Mamma mia che partiamo Già il primo Ci sta a rompere le scatole Alias Nessun alias noto Mi dispiace zio Non hai un alias noto E mo non ti faccio entrare Mi dispiace per te È stato un piacere Non hai un alias noto E te ne torni Ando cazzo Loro sei venuto Che neanche lo so Ti hai piedi di tutte cose Ciao 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 zio ciao Davanti Prassima Salve salve Lei è ricercata? Non sembrerebbe ricercata Anche se alla faccia un poco Aspettate scusatemi Ma ho dei dubbi Nessuna correlazione Ok va bene Sembrava lei Assurdo Allora questa viene dal Dalla Dove cazzo la viene? Da Impor Mappa delle regioni Impor 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 Dalla città di Zuccheido Zuccheindo Zuccheindo Va bene Il documento 2783 Valido Impor Va bene Vediamo questo 1,71 Ci sta per 60 kg Ok 10,12 82 Va bene Capelli ondulati E corti Ondulati Parliamone Ondulati Dati coincidenti Va bene Va bene Va bene Pollice Va bene Questo te lo posso restituire Vediamo questo Alia Alia Moza Iovska Moza Iovska Ok Femmina U0 U01 UH 54 BJB Transito Due giorni 20 Quanto ha detto che stavo Questa Un paio di giorni Un paio di giorni Ci può stare Raga Ci può stare Un paio di giorni Due giorni Ci sta No? Ci sta Va bene Zia Non crea problemi Vai E fai la pace Con tutti E prossima Dai così Dai così Che sto gasato Mi fai arrestare qualcuno Mamma mia Che è arrivato Del Rocchettaro Scopo del viaggio Vengo per ragioni mediche I tuoi documenti sono incompleti Io prego Comunque non fido Dottore laggiù Mi è stata a 10 dollari E dai va Questo volevo Lenta Ma ha dato 10 dollari Raga Ma ha dato 10 dollari Vai vai zio Vai Hanno fatto i soldi Non si dimenticherà di questo Eh lo so Eh lo so Ma ha dato 10 dollari Raga Ci siamo fatti comprare Ci siamo fatti comprare Violazione Oh Scopo del viaggio Transito Ok Dove adesso giorno Rimango un po' di settimane Allora Occhiali Dove stanno gli occhiali zio? Subito così A freddo Dove stanno gli occhiali? Descrizione non coincide È bene o male? È male zio È male Dico Impronte alle si dichiaranti Le impronte non coincidono Le impronte non coincidono nemmeno Zio Ma chi cazzarola sei zio? Non coincidono nemmeno chiede Per favore fai passare me No Cosa succede? Succede che ti sto arrestando Sai com'è? Hai documenti leggermente falsi Leggermente vero Ma sai com'è? Dettagli Dettagli Il prossimo Asta che è il prossimo ragazzoni Asta che è il prossimo Chi è questo? Oh L'uomo con gli occhiali Io sono tornato Quanti ingegneri hai incontrato? Ho avuto 4 chiamate 3 erano ingegneri civili Inutili A me serve meccanici Ho detto Va bene Era ultimo buono Grazie per aiuto Porca miseria Ma qua stiamo prendendo soldi pesanti Raga Interessante questa cosa Allora Questo viene da Stosca Da Stosca 1,80 per 88 kg Ok Il nome Anegovic Anegovic Mesov Mesov Maschio Il 6,884 Da Stosca Stosca Cesta Dessa regione Dove è Stosca? Stosca Stosca Orvec Ventor Va bene Questo era quello degli ingegneri Vero? Me lo ricordo Raga Stiamo a fare il botto dei soldi Signori miei Stiamo a fare Che cosa vuoi? Ah la cartina è in dita Tieni via Gloria a Stosca Gloria a te amico mio Gloria a te Il prossimo Ma non posso sparare a nessuno Voglio sparare a qualcuno Dai dai Mi fate sparare a qualcuno Eccola la tizia Eccola questa Neanche la faccio parlare questa In congruenza rilevata Interroga Arresto un mese Sì in carcere Te ne arresto un mese Zia Non ho niente da dire Arrestata subito Bella così Cosa succede? E te ne vai a fare un mese in carcere Zia Cosa succede? Niente Ma ti fai un mesetto in carcere Non proprio la Stosca Però giù di lì Il prossimo Mi sento marammaionchi Quando ti grido il prossimo Salve Salve Mamma che brutta questa Scopo del viaggio Ho il lavoro qui Dura da del soggiorno Oh fermi tutti Fermi tutti Come cazzo lo si apre qua la chiave? Dove le devo mettere la chiave? Raga raga Dove le devo mettere la chiave? Dove le devo mettere la chiave? Mannaglia Ah le hanno già sparato Ok Mamma mia Ma l'ho visto scappare L'infarto me l'ha venuto Raga Allora possiamo pagare tutto Tranne la guardiola che non ci interessa Al resto possiamo pagare tutto E ci restano anche altri 20 dollari sulle spalle Che cosa carina Che cosa bella signori miei Ci restano altri 20 dollari sulle spalle Bella così Bella così Sì dormiamo Dormiamo e va bene Va bene Dormiamo e va bene Incendio da Cristi Va bene ragazzoli Allora breve video Un pochino più breve Ma oggi così Oggi così Il video è un po' più breve Spero comunque vi sia piaciuto Questo episodio di Paper Pizz Fatemi sapere se dobbiamo continuare Questa avventura A me piace Si sta intrigando sinceramente Ora che abbiamo pure la pistola Si sta letteralmente intrigando Detto questo ragazzi Vi ringrazio per la visione Vi ringrazio per i like Per i commenti Noi ci vediamo alle Sempre qui sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao